Buonasera, buona domenica a tutti, benvenuti alla seconda edizione del telegiornale dell'Umbria. Apriamo dal presunto caso di razzismo avvenuto in una scuola media di Spoleto, una frase offensiva rivolta ad un quattordicenne di origini nordafricane da parte di un insegnante, attribuita ad un insegnante dal padre del ragazzo. L'episodio sarebbe stato riportato sui social proprio dal padre del giovane di origini nordafricane e poi denunciato ai carabinieri. Il caso sul quale è intervenuto il Ministero dell'Istruzione che ha avviato un accertamento amministrativo. Adesso parliamo di un incidente che è accaduto poco fa nel Ternano e proprio in questo momento in corso l'intervento di Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 sul post, un incidente che è avvenuto sulla Flaminia all'altezza del bivio di Ponte Sanguinaro, un incidente stradale che ha visto un impatto frontale tra due auto. Una persona risulta ferita e incastrata ancora all'interno del mezzo e quindi cerchiamo di darvi anche ulteriori aggiornamenti su questo episodio che è accaduto proprio nel tardo pomeriggio di oggi. Adesso apriamo la situazione Covid in Umbria con i dati aggiornati di oggi, domenica 13 giugno, con le nuove positività riscontrate nelle ultime 24 ore. Sono 11 i nuovi casi positivi con 32 guariti. Gli attualmente positivi scendono a 1037, 21 in meno di ieri. I test effettuati sono 1366 per i molecolari, 1917 per quelli antigenici. Si registrano altri due ricoveri che portano il numero delle persone complessivamente ospedalizzate in Umbria a 48, di cui 4 in terapia intensiva. Quindi due ricoveri in più nella giornata di oggi e non c'è, come ricordavamo nel titolo, nessun decesso. Le fortuna nelle ultime 24 ore rispetto dei due decessi della giornata di ieri. Adesso andiamo a fare il punto sulle vaccinazioni perché supera la percentuale del 50% il numero degli Umbri che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, mentre il 24,2% ha completato il ciclo vaccinale, quindi con prima e seconda dose. Sono questi i dati forniti dalla regione e questa mattina 441.164 cittadini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino, sono più di 190.000, 190.460, quelli invece che hanno fatto sia prima che seconda dose. La prima dose AstraZeneca è andata al 22,4% dei vaccinati, il Johnson invece è riguardato il 3,43%, il vaccino Moderna è il 9,11%, il vaccino Pfizer il 64,99%. Le dosi somministrate sono complessivamente 616.478 su un totale di 665.891. Sono stati avviati anche appuntamenti per le vaccinazioni degli over 50, si puntava a terminare entro la giornata di oggi, per il momento rimangono fuori più di 40.000 over 50, si è riusciti a vaccinare comunque più del 50% degli over 50 in Umbria. Per il momento avviata anche la vaccinazione per coloro inseriti nella fascia d'età 40-49 anni, per il momento un terzo sottoposta alla prima vaccinazione. E intanto il commissario straordinario per il Covid Umbria, Massimo D'Angelo, ha trasmesso a tutti i direttori dei distretti sanitari da circolare, maata dal Ministro della Salute con la sospensione del richiamo del vaccino AstraZeneca per gli under 60. Allora andiamo a vedere il servizio proprio su tutti gli appuntamenti che adesso andranno riprogrammati con altri vaccini per gli under 60. Per i cittadini sotto i 60 anni che hanno ricevuto la prima dose con vaccino AstraZeneca, il ciclo sarà completato con vaccino Pfizer o Moderna entro 8, al massimo 12 settimane. E' quanto annunciato dal commissario straordinario per l'emergenza Covid in Umbria, Massimo D'Angelo, tenendo conto della circolare emanata dal Ministero della Salute con il parere del Comitato Tecnico Scientifico che sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca agli under 60 anche per la seconda dose. A partire da ieri gli uffici regionali stanno riprogrammando gli appuntamenti in modo da recuperare entro venerdì prossimo quelli rimandati, mentre gli appuntamenti della prossima settimana saranno mantenuti. Coloro che erano programmati nella data di venerdì verranno regolarmente vaccinati con vaccino Pfizer e Moderna. Nel caso non si dovessero presentare riceveranno un sms con un nuovo appuntamento nei prossimi giorni. A supporto delle campagne vaccinali in Italia, quindi anche in Umbria, da domani le farmacie potranno somministrare il vaccino Johnson & Johnson, quindi prime dosi somministrate a partire da domani. Sentiamo la linea Ballerani. Da lunedì in Umbria partirà un intervento vaccinale di supporto con le farmacie e il vaccino appropriato Johnson & Johnson a partire dai sessantenni. Ad annunciarlo è stato il commissario regionale all'emergenza Covid Massimo D'Angelo nel corso del punto settimanale sull'andamento della pandemia. Sono 116, è stato spiegato, le farmacie che hanno aderito alla campagna. Ciascuna agirà attraverso un'agenda ad hoc dopo l'adesione da parte del cittadino che poi riceverà la comunicazione con data, ora e il luogo della somministrazione. Essendo capillarmente distribuite su tutto il territorio regionale, appuntualizzato D'Angelo, le farmacie assicureranno un'ulteriore forma di adesione all'intervento vaccinale. Intanto, entro questa settimana, saranno concluse le vaccinazioni negli hub per gli ultracinquantenni che hanno aderito, mentre in sei distretti, ha spiegato Fortunato Bianconi, amministratore unico di Umbria Digitale, già in queste ore si comincerà a chiamare i soggetti della fascia 40-49 anni. Ricordiamo che per il momento mancano all'appello più di 40.000 over 50 per quanto riguarda l'adesione alle vaccinazioni e come si diceva nel servizio di Alina Balarani è partita anche la vaccinazione per gli over 40, per coloro inseriti nella fascia 40-49. Torniamo alla cronaca e a Terni, dove è stata denunciata a piedi libero per furto gravato una 44enne che si è introdotta in casa di una persona anziana andando a rubare denaro, il denaro contenuto nel portafogli della vittima del furto. L'episodio è accaduto a Narni e la denuncia è riguardata una 44enne di Terni. La squadra dei vigili del fuoco della centrale di Perugia ha operato questa mattina su Montepenna, a altezza della zona di Montemelino, nei pressi di Magione, per il recupero di un ciclista che si è infortunato ad un arto a seguito di una caduta e c'è stato un intervento anche del soccorso alpino, il 118 sul posto e quindi per fortuna l'uomo è stato recuperato e soccorso. Altro aggiornamento di cronaca è che arriva dall'Iran, dove la suora Giuseppina Berti di Foligno, 75enne, che ha lavorato per quasi 30 anni nell'ebrosario di Tabriz in Iran, non ha ottenuto il rinnovo del visto e quindi sarà costretta a lasciare il Paese. Quanto ha riferito proprio questa mattina l'agenzia di Anne Cronos, la suora Umbra aveva avuto il premesso di soggiorno, premesso che era scaduto da oltre un anno e dovrà lasciare la Repubblica Islamica. Adesso andiamo a occuparci della viabilità e di quelli che sono i disagi inevitabili a partire da domani, lunedì 14 giugno, alle porte di Perugia, per quanto ottiene la chiusura della strada che costeggia il complesso commerciale Decathlon e che collega Perugia e Corciano, una strada molto trafficata, molto frequentata dai cittadini perugini e di Corciano perché occorre effettuare una serie di lavori programmati nell'ambito degli interventi di manutenzione delle strade comunali, chiusura dunque per 10 giorni per via Trattati di Roma, che vedete nelle immagini, è la strada che costeggia il complesso commerciale Decathlon. Non sarà dunque possibile utilizzare l'ingresso di Olmo, inoltre, per il raccordo autostradale Bettolle-Perugia, quindi per andare verso San Mariano si potrà uscire a Corciano e non a Olmo, sulla Perugia Bettolle e non sarà possibile accedere allo stesso raccordo autostradale dall'ingresso di Olmo, mentre per le macchine che vanno a percorrere questo tratto, quindi questo raccordo, che sono diretti a San Mariano, potranno, ricordiamo, uscire a Corciano. Chiusura della strada che costeggia il complesso Decathlon dell'ingresso a Olmo sulla strada Bettolle, ricordiamo, per 10 giorni da domani, lunedì 14 giugno, e sempre da domani sarà temporaneamente chiusa in entrambi le direzioni della strada provinciale 471, tra le località a caso di Gavelli, nel comune di Sant'Anatolia di Narco, in provincia di Perugia. La chiusura disposta con ordinanza della provincia di Perugia è necessaria, come ha comunicato ANAS, per consentire in sicurezza i lavori di ripristino della stabilità dei versanti rocciosi. E adesso andiamo a Foligno con due mostre dedicate a Raffaello, all'interno del museo capitolare di Ocesano. Siamo ieri la presentazione della mostra collettiva dei finalisti dell'Open Call, la Madonna di Foligno, con la prevenzione nel pomeriggio di ieri, e poi presso la corte di Palazzo Trinci, sempre a Foligno, è stata presentata la mostra di Nicola Samorì dei Santi e del Fuoco, intervistato per noi da Elena Ballarani. Sentiamo. Il cinquecentenario dalla morte di Raffaello Sanzio è stata un'occasione perfetta per sollecitare l'arte contemporanea a riscoprire e interpretare temi e canoni estetici che sembrano oggi così distanti. Raffaello realizzò la Madonna di Foligno tra il 1511 e il 1512 come pala d'altare per Santa Maria in Araceli a Roma. Questa fu poi custodita presso la chiesa di Sant'Anna Foligno prima di essere trafugata dai francesi. Recuperata nel 1816, fu trattenuta presso i Musei Vaticani e dopo più di 200 anni, nel 2014, ha fatto una nuova breve tappa a Foligno di ritorno dalla mostra di Milano. La mostra Raffaello e la Madonna di Foligno, la fortuna di un modello, aperta presso Palazzo Trinci il 24 settembre scorso, è stata prorogata fino al 24 ottobre 2021. In questa circostanza, il Comune e la Diocesi di Foligno hanno fortemente voluto e lavorato verso la realizzazione di un progetto speciale che coinvolgesse l'arte contemporanea, affidando alla storica dell'arte e curatrice Marta Silvi due eventi dedicati al linguaggio contemporaneo, una open call e la mostra dei finalisti presso il Museo Capitolare Diocesano di Foligno e la mostra di Nicola Samorì presso il Museo di Palazzo Trinci, entrambi incentrati sulla rilettura del capolavoro raffaellesco. Nicola Samorì, già autore del Palio della Giostra della Quintana 2016, è stato chiamato a rileggere e a reinterpretare l'opera della Madonna di Foligno. Raccontiamo un po' questo lavoro. La mia opera legata alla Madonna di Foligno è nata quasi un anno fa in realtà perché come sappiamo c'è stata una lunga interruzione obbligata dovuta ai tempi e ai ritmi della pandemia. È stato un confronto molto complesso che ho accettato perché il contesto che già conoscevo in qualche modo ha stimolato il mio desiderio di misurarmi con la dimensione di Palazzo Trinci, ma d'altro canto c'era quasi la voglia di sfuggire dalla figura ingombrante e immensa di Raffaello. Dunque, qualche cosa che ho meditato per un po' e poi mi sono immolato in un certo senso perché il termine giusto, misurarsi con Raffaello significa accettare l'idea della sconfitta in parte della catastrofe, che è poi quello che accade all'interno del mio lavoro. È un lavoro nel quale sembra che effettivamente il meteorite sia precipitato nell'immagine e abbia in qualche modo fatto esplodere, disgregare quella che è l'immagine santa, sacra che viene venerata dalle figure dei santi e del committente. Che poi non si tratta esattamente di questo perché è un processo meccanico che risveglia un aspetto del sacro che nell'immagine di Raffaello è accudito in modo meticoloso. Nel mio lavoro invece è quasi un ritorno alla materia, all'indistinto, a qualche cosa che ci dice che è possibile raffigurare il sacro in modo didascalico, preciso, diretto, iconograficamente pulito. Raffiche di furto proprio a Foligno, segnalate dai cittadini e residenti, c'è stato un tentativo di furto anche in via Piave da parte di un uomo che si era spacciato come un operatore del servizio idrico, tentando poi di sbagliare la casa di una donna anziana. L'intervento della badante, della donna, ha sventato il furto. Sono altre segnalazioni che arrivano da altre abitazioni proprio di Foligno dove ci sarebbe stata una raffica di furti proprio negli ultimi giorni nella città Folignate. Da Foligno a Terni perché oggi, in occasione del 77esimo anniversario della liberazione della città di Terni, si è svolta una cerimonia organizzata in Piazza della Repubblica questa mattina da parte dell'amministrazione comunale nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid. Si è svolta il raduno delle rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni combatteristiche dell'arma, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. È avuto luogo la cerimonia per ricordare l'anniversario della liberazione di Terni con la deposizione della corona e l'onore ai caduti e con la collaborazione dell'Istituto Musicale Bricialdi. Torniamo tra poco con l'ampia pagina sportiva. Dal 1980 Sisas è un'azienda leader nel settore della segnaletica e della sicurezza stradale. Sisas offre una vasta gamma di prodotti che vanno dalla segnaletica ai sistemi di monitoraggio del traffico e della mobilità. Visita il nostro sito sisas.it o mandaci una mail a info-sisas.it La sicurezza di chi circola sulle strade è la nostra priorità. Sisas, la strada, è la nostra passione. Pizzeria Ristorante Il Maghera Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Con la sua ampia scelta di piatti genuini e gustosi vi offre la possibilità di poterli gustare anche nell'ampio spazio all'aperto. Pizzeria Ristorante Il Maghera Vi aspettiamo a Perugia in via Pietro Soriano. L'Azzurra Trasporti opera con grande efficienza, professionalità e qualità a livello nazionale ed internazionale nel fornire servizi di trasporto merci, trasporto materiali recuperabili e trasporto cavalli sportivi. Una passione che ci contraddistingue da oltre 40 anni. Affidabilità e sicurezza sono la nostra forza. Ci trovi a Bastia Umbra in via Brufa 3. Vuoi regalare alla tua casa il massimo del comfort e dell'eleganza? Scegli le finestre forti infissi, alta efficienza, design unico e realizzate 100% in Italia. Shabby, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti Infissi ha una finestra per ogni tendenza. Oggi, grazie agli incentivi Eco Bonus, Forti Infissi ti riconosce uno sconto in fattura immediato del 50% e non dovrai attendere 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali. Ti aspettiamo in totale sicurezza nei nostri showroom a Perugia, Foligno e Arezzo. Prenota subito un sopralluogo con preventivo gratuito. Regalati un prodotto unico con una finestra Forti Infissi. Ora più che mai, scegliamo prodotti italiani. Scegliamo di essere forti insieme. Airee, esperienza, professionalità e competenza sono le nostre parole d'ordine da oltre 20 anni. Airee, azienda leader nel settore farmaceutico sempre vicino ai suoi clienti con la distribuzione nelle farmacie di tutta Italia di dispositivi di protezione individuale made in Italy. Tessuti e colori certificati e di alta qualità. Da oggi vicina anche a tutte le altre realtà commerciali, consegna in 24-48 ore e per tutti i telespettatori di Tef Channel sarà applicato anche un grandissimo sconto. Contattaci su venditechiocciolairee.srl.eu e allo 0742 22 925. Airee, serietà e competenza, perché la salute è importante. L'Umbria segue con particolare attenzione la situazione degli azzurri e gli europei di calcio con questa manifestazione itinerante. L'Italia che è partita dal debutto all'Olimpico con Spinazzola. Folignate, ex giocatore del Perugia, migliore in campo, votato dall'UEFA come migliore in campo nella sfida vinta con la Turchia per 3-0. E qui vediamo proprio su Instagram Miriam Sette, la moglie di Leonardo Spinazzola che ha voluto postare questa foto per manifestare tutto il suo entusiasmo insieme al figlio più grande con la scritta Che emozione, grande papà, ti amiamo da morire. Un grande momento per il giocatore Umbro, ricordiamo Di Foligno che ha mosso i primi calci proprio a Foligno per poi trovare un trampolino di lancio nella Perugia di Bisoli e del direttore tecnico Goretti sei anni fa e poi l'esperienza all'Atlanta, alla Juventus e adesso alla Roma per Leonardo Spinazzola, protagonista in questi europei di calcio sta meglio per fortuna Ericsson dopo il terribile episodio di ieri con il giocatore che è barcollato e poi caduto a terra per un arresto cardiaco migliorano sensibilmente le condizioni di Ericsson che probabilmente chiuderà comunque la stagione agonistica. Andiamo avanti con la pagina sportiva torneremo tra poco sul calcio spazio alla presentazione del grande acquisto della Sir Simone Giannelli ieri al Quasar Village di Corciano grande pubblico e grande attestato di affetto per il nuovo giocatore bianconero Eliana Badrani ha intervistato per noi Simone Giannelli Noi da cinque anni siamo partner televisivo ufficiale della Sir Perugia è un vero piacere averti con noi siamo in diretta partiamo subito dalle sensazioni che hai avuto oggi insomma questo bagno di folla anche grazie al fatto che l'Umbria è zona bianca finalmente esatto per fortuna per fortuna no sono sensazioni incredibili sono veramente contento di essere qui in mezzo a tutte queste persone a questi tifosi ho sentito, ho percepito il calore incredibile che c'è dietro questa squadra quindi sono molto contento di essere qua e non vedo l'ora di iniziare anche perché noi ti avevamo visto per l'ultima volta in tv con le lacrime agli occhi non riuscivi quasi a parlare dopo la finale di Champions è stato quello forse il momento in cui hai pensato forse quest'anno è arrivato il momento di uscire dal mio nido come hai detto tu prima ma non so se era stato realmente quello dico che sono uno che lo molla quindi anche se mi avete visto così perché quando uno ha passione quando perde poi ci rimane anche tanto male quindi ho preso tante batoste ho vinto tante cose importanti ma posso fare ancora di più o voglio vincere altre cose quindi adesso questa maglia sono uno che non molla come ho detto quindi cercherò ancora con le sensazioni per poter tornare ad alzare dei trofei Complementerà sì il grande acquisto il grande mercato estivo del Block Davids adesso il calcio con il Perugia vicina ormai vicinissima la decisione di Caserta il programma domani con l'incontro decisivo tra Santo Padre e il tecnico Calabrese e quindi si avvicina l'ufficialità di Alvini sulla panchina biancorossa Da lunedì ogni ora potrebbe essere buona per l'ufficialità dell'arrivo sulla panchina del Perugia di Massimiliano Alvini un tecnico che nella sua carriera ha fatto tutti i gradini partendo dal basso e arrivando in una piazza che sogna da più di 15 anni il ritorno in Serie A sempre lunedì è previsto un incontro decisivo tra Santo Padre e Caserta per porre fine ad uno stato di incertezza determinato dallo scorso primo giugno quando le parti si sono dette per la prima volta di non amarsi più come prima qualche cosa che forse non è andata bene durante la stagione aveva condizionato il tecnico Calabrese comunque convinto dal progetto del Benevento come comunicato alla società di Santo Padre di cui giorni interminabili di trattative per arrivare ad una soluzione accontentando le richieste legittime del Perugia che aveva ancora due anni di contratto con il suo allenatore dopo la firma di lunedì Caserta raggiungerà la società di Vigorito per iniziare la sua avventura in giallo rosso a Marco Giannitti il compito di ricostruire la squadra valutando le possibili confermi di alcuni uomini chiave della passata stagione come Sunas, Angelle e Quan ma la sensazione forte è che ci sarà un ampio rinnovamento sulla base delle indicazioni di Alvini che gioca con il 3-5-2 o in alternativa con il trequartista con il 3-4-1-2 piace l'esterno lunetta dell'Atalanta mentre si allontana Elia che potrebbe seguire Caserta proprio a Benevento e ieri si è giocato il derby primavera vinto dal Perugia sulla Ternana per 2-1 alla Final Four dunque accedono i Grifoni i primi in classifica secondo il Terramo terzo posto per la Ternana in gol Morina che qui vedete vicino alla segnatura dopo 5 minuti al tredicesimo segna proprio il numero 8 bianco-rosso per l'1-0 dell'attaccata del Perugia per l'1-0 dei Grifoni Morina dunque al tredicesimo poi il raddoppio di lunghi in contropiede nel secondo tempo con questo tiro imprendibile all'angolo basso da parte di Lunghi sullo 2-0 dell'elezione della Ternana con il Grifo in 10 uomini per espulsione di Angori e sul rigore Falanga al trentanovesimo della ripresa corcia le distanze ma la squadra di Formisano può festeggiare alla fine la meritata vittoria e l'accesso alla Final Four dunque trionfo per i piccoli Grifoni Under-19 bella giornata di sole e bel pubblico anche all'antistadio del Curi ieri per la vittoria nel derby contro la Ternana parliamo proprio della Ternana di Lucarelli premiato al Gran Galà del calcio Umbro ad Assisi la scorsa settimana è stato un bel momento proprio per andare anche a conoscere meglio grandi personaggi del calcio nazionale come lo stesso Causio premiato anche il EDS del Perugia Giannitti eccolo mentre Lucarelli parla proprio di Bronzetti il primo Bronzetti è andato proprio al tecnico della Ternana che ha chiesto 5 innesti sul mercato per la prossima stagione di Serie B e potrebbe esserci la sorpresa di Leali proprio per la porta Rosso Verde visto che per il momento Fiorillo sarebbe intenzionato a rimanere al Pescara c'erano diverse opzioni anche quella di Paleari del Genua per il momento la società di Bandechi punta proprio l'ex Grifone Leali per il resto dopo l'ufficialità di Ghiringhelli arrivato dalla Cittadella e il riscatto di Palumbo Leone mira a tenere ovviamente Partipilo e Falletti sono i due pilastri su cui verrà costruita la Ternana della prossima stagione complimenti a Lucarelli sono arrivati anche dal patrone del Madrid Florentino Perez per un bel momento l'8 giugno scorso proprio ad Assisi al Gran Galà del Calcio Umbro che vi proporremo nel Palinzesto di Tough Channel a partire dalla prossima settimana organizzando da Infopress ne parleremo anche all'interno di Grifo Stadium domani sera a partire dalle 21 e 15 sempre alla ricerca di attaccanti il Gubbio che comunque prevede innesto di una serie importante di nuovi giocatori una movimentazione che porterà almeno 10 innesti da parte della società rosso-blu ambiziosa come ricordava lo stesso presidente Notari che vuole fare un campionato di vertice la regione B della prossima stagione ne parleremo domani torneremo chiaramente anche sul Gubbio nella giornata di domani grazie per averci seguito ricordiamo l'appuntamento con l'eccellenza l'eccellenza più che altro della serie D perché si è giocato oggi la trentaduesima giornata di campionato con l'eccellenza che tornerà il prossimo il prossimo anno la serie D con il paregio del Cannara contro il Sandonato nel zone E di serie D per 2-2 il Foligno ha pareggiato a Famiglia per 2-2 la Tresna ha vinto a Grassina per 1-0 consolidando il terzo posto ormai aritmetico il Tiferno ha vinto contro il Trastevere per 4-2 quindi c'è la certezza del terzo posto del Tresna mentre il Foligno ha ottenuto un pareggio prezioso per la salvezza nella serie D sul campo del Flaminio ne parleremo con lo speciale serie D a partire dalle 21 su questo canale canale 12 di Tef Channel buona serata a tutti grazie per averci seguito grazie per avermi